Nell'ultima sala dedicata alle ceramiche sono esposti i servizi che appartenevano storicamente alle collezioni del Palazzo Spinola di Pellicceria ma anche servizi che sono stati donati o concessi in deposito successivamente come ad esempio il servizio della famiglia Raggio che è stato donato proprio negli ultimi anni oppure il servizio realizzato da Laurent Dufour commissionato a una manifattura francese come il servizio Raggi sono proprio testimonianze di questo gusto dell'abitare che si sviluppa a Genova in modo particolare nell'Ottocento e esporre queste testimonianze nell'ambito di un museo che è di mora storica proprio contribuisce a far comprendere quello che erano gli usi e costumi delle famiglie aristocratiche e poi successivamente anche borghesi diciamo dalla fine del Settecento per tutto l'Ottocento abbiamo servizi diciamo per imbandire le tavole ma anche tutta una serie di testimonianze legate al rito del caffè e del tè che si sviluppa soprattutto nel Settecento e che a Palazzo Spinola è documentato non solo attraverso i manufatti ma anche attraverso i documenti che attestano proprio la presenza di questo uso che pian piano prendeva sempre più piede e che diventerà poi tipico diciamo della giornata di un aristocratico si parlava del rito del tè e del caffè in questa vetrina è ben documentata la particolare cura che i nobili genovesi riponevano proprio in questo rito veramente significativo che come accennavo si è sviluppato soprattutto nel Settecento abbiamo una serie di servizi di varie manifatture sia italiane sia tedesche o francesi che documentano proprio questo raffinatissimo gusto della committenza genovese una committenza sempre molto attenta a quelle che erano gli sviluppi proprio delle manifatture più importanti e portavano quindi questa attenzione portava a Genova opere di manifattura proprio francese tedesca ma anche come si accennava per i servizi da tavola le straordinarie porcellane cinesi essendo stata una dimora aristocratica fino a pochi anni fa abbiamo anche la fortuna la possibilità di documentare tutta una serie di manufatti che di solito non sono presenti in tutti i musei penso ad esempio proprio alla particolarità di avere oggetti legati all'igiene diciamo agli ambienti meno ufficiali di una dimora aristocratica e tra l'altro il terzo e quarto piano della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola che oggi vediamo in un aspetto diciamo moderno in quanto ricostruiti e in realtà ospitavano proprio le zone di servizio le zone che effettivamente la famiglia abitava con tutta la biblioteca e poi nell'ultimo piano gli ambienti dedicati alla servitù purtroppo manca a Palazzo Spinola una testimonianza ad esempio di quella che è la grande produzione degli argentieri in quanto non è pervenuto tutto l'arredo per la tavola però la collezione proprio di ceramica permette di documentare e diciamo quelli che erano gli usi di una famiglia aristocratica sino diciamo ai primi decenni del Novecento grazie